Quando ti viene voglia di un bel piatto di pasta, bello rustico, gustoso e genuino, in Calabria abbiamo la pasta bruscinata. Come ve lo spiego questo termine? Sarebbe una pasta fatta veloce con quello che si ha in frigo, sarebbe una moderna svuota frigo, potremmo definirla oggi. In ogni famiglia si fa in un modo diverso, c'è chi la mette al forno, chi non la mette al forno, oggi vi faccio vedere la mia versione. Non vi spaventate, è una cosa semplicissima da fare, ma secondo me vi piacerà tanto. Se così fosse me lo scrivete nei commenti e anche se non vi piace scrivetelo così comunque anche le critiche sono sempre costruttive e bene accette. Quando fate con rispetto e soprattutto con educazione, buona visione e un grande abbraccio dalla Calabria. Per prima cosa siccome ci vuole un po' di tempo in più mettiamo a fare due uova sode, poi prendiamo una bella melanzana, se è di questo tipo qui che vedete in video è ancora meglio perché è bella dolce e morbida. La tagliamo a metà, poi di conseguenza facciamo delle strisciolone di una larghezza di un paio di centimetri e poi ne andiamo a ricavare dei cubetti in questo modo qua. Per il quantitativo regolatevi un po' voi. Io oggi vado a fare questa pasta per un paio di super porzioni abbondanti, diciamo un 350 grammi di pasta. Considerate anche che poi la melanzana si andrà a ridurre, io ad esempio la metto tutta questa qui ed è anche abbastanza grande, proprio perché a me piace tanto. Ripeto, voi regolatevi secondo il vostro indice di gradimento, però io vi dico che se la mettete in abbondanza sicuramente non sbagliate. Allora procediamo a tagliare tutto, sia la buccia esterna che la mollica interna, quindi non buttate niente della melanzana, poi andate a mettere una spolverata di sale, girate un po' così non si fa nera e servirà anche il sale a far togliere l'acqua di vegetazione. Successivamente ci andiamo ad occupare del sughetto. Se avete dei buoni pomodorini rossi e maturi come questi che sto utilizzando io, tagliateli a metà o se sono un po' più grandi li tagliate anche in quattro parti e li mettete da parte. Oppure potete utilizzare una buona passata, però finché c'è il fresco io lo prediligo sempre personalmente. Una volta che abbiamo tagliato tutti i pomodorini a pezzettini abbastanza piccoli, possiamo spostarci tranquillamente ai fornelli, dove in una bella padella capiente andiamo a mettere un bel giro di olio di quello buono calabrese extravergine di oliva. Accendiamo la fiamma sotto la padella e procediamo a tagliare anche uno spicchietto d'aglio. Se vi piace, come piace a noi, lo tagliate in modo sottile in modo che poi sparirà nel sughetto. Se invece non vi piace più di tanto sentirlo, magari mettetelo in camicia o schiacciato e basta e poi lo toglierete una volta ben dorato. Per non farci mancare nulla, visto che adesso è il periodo, andiamo ad aggiungere anche uno scalogno tagliato bello piccolo, così facciamo aglio e scalogno insieme e darà un bel gusto a questo sughetto fresco. Facciamo rosolare per bene, l'aglio deve diventare bello biondo senza bruciare, e poi andiamo a mettere anche una macinata di pepe nero, così nell'olio caldo, in modo da far esaltare anche il suo profumo. Come vedete stiamo facendo un sughetto molto molto semplice, ma vi assicuro che il sapore poi vi renderà giustizia, perché è davvero, credetemi, molto buono e come state vedendo anche molto semplice da fare. Una volta che l'olio è caldo, l'aglio è ben rosolato, possiamo tranquillamente aggiungere anche i pomodorini. Abbassiamo un po' la fiamma se necessario e lasciamo andare affinché non appassiranno. Se avete l'esigenza poi potete anche aggiungere magari mezzo bicchiere di acqua di cottura, così da favorire ancora l'appassimento del pomodorino. Così lasciate andare tranquillamente e andiamo a fare un'altra cosetta. E sì, perché se vi ricordate all'inizio avevamo messo a bollire le due uova, quindi una volta raggiunta l'ebollizione le abbiamo lasciate cuocere per 8-9 minuti e poi shock termico sotto l'acqua fredda e le uova saranno sicuramente sode. Allora, un'altra padella, mettiamo dell'olio all'interno perché dobbiamo friggere le melanzane nel frattempo che il sughetto continua ad andare. Fate la prova con un pezzettino, quando ci sono tutte le bollicine attorno al pezzettino di melanzana significa che l'olio è a temperatura e possiamo procedere. Li metteremo noi in due volte, visto che sono un bel po', e prima di inserirle nell'olio date sempre una strizzata in modo che togliete tutta l'acqua, sempre l'acqua di vegetazione, in eccesso che il sale ha fatto venire fuori. Ora, so benissimo che c'è qualcuno che anche mette poi direttamente le melanzane nel sugo senza friggerle. Certamente sarà un qualcosa di più leggero, ma in quel modo la melanzana non è che venga un granchè, viene piuttosto bollita, mentre passata un po' in olio soffritta giustamente tutta un'altra cosa. Ogni tanto si può fare, non dovete avere questo terrore assoluto della frittura, perché certamente se è una consuetudine non va bene, ma se una volta ogni tanto o per un'occasione particolare concedetevi qualche piacere culinario nella vita, senza poi pentirvene o fustrarvi. Questo sughetto intanto è profumatissimo, anche perché abbiamo aggiunto e spezzettato qualche foglia di basilico fresco. Procediamo con il completare della frittura delle melanzane e andiamo a fare nel frattempo anche dei cubetti di provola silana. La provola silana insieme a tutti gli altri prodotti tipici calabresi vi ricordo che la trovate disponibile nel nostro sito online sfizidicalabria.com Facciamo spedizioni in tutta Italia e in tutte le nazioni che fanno parte della comunità europea. Quando le melanzane sono belle dorate le andiamo a scolare per bene e le mettiamo in una scodella con sotto dei fogli di carta assorbente, così andiamo a togliere l'olio in eccesso. Vedete come deve venire la frittura? Molto leggera, giusto quando sono dorate non devono venire croccanti e inzuppate di olio. E' importante quando friggiamo far raggiungere prima all'olio la giusta temperatura che si attesta intorno ai 170-180 gradi e poi friggere quello che vi pare. Le uova ormai si sono raffreddate, togliamo la buccia e le mettiamo da parte perché ormai dobbiamo soltanto assemblare il tutto. Intanto passiamo le melanzane fritte nel sughetto di pomodoro. L'acqua è già in ebollizione e adesso andiamo a calare la pasta. Per il formato ci sta bene una mezza manica, ci sta bene un pacchero. Io questa volta ho preferito le pennette lisce. Una volta che le penne sono ben al dente le andiamo a scolare direttamente e poi le mettiamo nella padella con il sugo. Diamo una bella girata in modo da far amalgamare per bene. Guardate che bei colori anche, che bel contrasto il nero della buccia della melanzana e poi la polpa della melanzana verrà bella morbida, gustosa perché ovviamente l'abbiamo fritta prima. E a questo punto direi che possiamo anche tagliare le uova sode. Tagliatele come vi pare a pezzetti e poi fate una bella girata. Per tre persone io mi sono regolato con due uova sode. Anche questo è un dettaglio che lo deciderete voi per quanto riguarda il quantitativo. Giriamo ancora, la fiamma per adesso è ancora accesa sotto la padella. Vi potete aiutare con un goccino d'acqua se avete esigenza. Poi una volta che avete rimescolato il tutto spegnete il gas e procedete con l'aggiunta dei cubetti di provola silana. Questa adesso in un attimo si scioglierà e diventerà filante e buonissima. Guardate qui ragazzi, questa è una pasta spettacolare. Per chiudere ci vuole un tocco ancora di basilico spezzettato in modo da fargli sprigionare tutto il suo profumo. Che dire, questa ragazzi è una pasta che potete fare in modo molto molto semplice ma sono certo che vi stupirà, vi stupirà per quanto è buona. Ora, formaggio sì o no? Io personalmente in questo caso direi di no. Però ci sta bene anche una bella grattata di ricotta secca calabrese o bianca o affumicata. Io oggi non esento la necessità di aggiungere formaggio voglio gustarmela così con il bello e il profumo intenso del basilico tanta melanzana e vai con l'impiattamento a valanca nel mio tegamino in alluminio che vi piace tanto e se volete anche voi questo tegamino potete richiedermelo su whatsapp oppure lo trovate disponibile sempre nel nostro sito online sfizidicalabria.com La valanca è catapultata nel piatto direi che sono pronto guardate che bello vado tranquillamente a fare il mio unico e solo assaggio giudicate voi stessi guardate come fila la provola silana altro che mozzarella è gustosissima e filante soffio perché brucia è stata appena tolta adesso dalla padella ragazzi guardate amm oddio ragazzi l'apoteosi per me l'uovo sodo nella pasta è fondamentale così come è fondamentale anche nella mia pizza preferita io l'aggiungo sempre e adesso vi do anche un'altra dritta se scolate la pasta un po' più al dente dopo averla girata per bene in padella potete passarla nei nostri tegamini di coccio di terracotta una spolverata di pangrattato sopra e la infilate nel forno gli fate fare una gratinatura ed è pazzesca fidatevi replicate e fatemi sapere se questa ricetta vi piace alla prossima grazie a tutti